La gente ci abbiamo sotto casa, perché si vanno a vedere? Alla cuscina c'è chi? Questi sono i romani, si sono andati un po' sconsoli, dai casinati ci abbiamo sotto casa. Guarda qua, davanti ci abbiamo i carabinieri, la polizia urbana, i vigili del fuoco, tutto il traffio bloccato da tutte le parti, la polizia municipale, che bellezza. Di sotto Willy che abbaia e Pedro che abbaia anche, i ricolti sono sopra la testa.